La pace del Bitto è finita. Prosegue il percorso intrapreso dai ribelli del Bitto verso il lancio del nuovo nome del formaggio, auspicato dall'assessore regionale all'agricoltura Gianni Fava, visto di traverso invece dal presidente della Coldiretti di Sondrio, Alberto Marsetti. E per la prima volta, come comunicano il Consorzio Salvaguardia Bitto Storico e la società Valli del Bitto S.p.A., la stagione dal peggio 2016 non vedrà la produzione di una sola forma di Bitto Storico, una morte simbolica rappresentata anche dalla diffusione di un necrologio realizzato ad hoc. Dopo nemmeno due anni, l'accordo siglato con il Consorzio di tutela Bitto e Casera, firmato nel novembre 2014, decade dunque definitivamente. La spaccatura nasce dall'approvazione del nuovo disciplinare per produrre Bitto D.O.P., che, spiega Paolo Ciapparelli, sostenitore del Bitto Storico e condottiero dei ribelli, ha introdotto in Mangimi l'uso di fermenti industriali, escludendo il latte di capra dalla composizione. I produttori del Bitto Storico, invece, sottolinea Ciapparelli, hanno sempre rispettato le vecchie regole lavorazione a caldo, cioè non oltre 30 minuti dalla mungitura, la composizione del latte, 80% di vacca, 20% di capra, alimentazione degli animali fatta esclusivamente di erba. Due modi di lavorare che hanno portato alla costituzione dei due consorsi, che si distinguono oltre che nelle modalità, anche nella quantità. 1.500 sono le forme di Bitto Storico prodotte in un anno, 20.000 sono quelle di Bitto D.O.P. Battaglia impari, tuona Ciapparelli. Oltretutto, ci sentiamo presi in giro dalla Camera di Commercio di Sondrio, con la quale abbiamo stipulato accordi mai rispettati. I produttori del Bitto Storico hanno sostenuto molte spese. Sono la realtà modello che traina tutto il settore. Eppure, nonostante le promesse, non abbiamo ottenuto alcun finanziamento. Dunque, siamo pronti a cambiare definitivamente strada. Il New Deal, però, potrebbe mettere in imbarazzo la valtellina al prossimo Salone del Gusto in programma a Torino a settembre, ma conviene ai sostenitori del Bitto Storico, che così eviterebbero guai giudiziari con l'Unione Europea, come ha segnalato lo stesso Assessore Fava. Infatti, altrimenti, si rischierebbero guai giudiziari con la possibilità di venire denunciati per frode in commercio.